Come si può rientrare in connessione con i giovani? Dobbiamo evitare che sia svuotata di significato o banalizzato il concetto di sostenibilità, riportando focus e attenzione sulla misurazione dell'impatto, l'unico vero fattore discriminante per distinguere operazioni di green o social washing da azioni trasformative concrete. Bisogna evitare di creare comunque una burocrazia della misurazione, ma bisogna semplificare con indicatori chiari, semplici, ma comunque spingere a distinguere tra inuncezioni di principio, operazioni di facciata e comportamenti concreti. Come si può rientrare la produzione? Cosa mangia? Cosa compra? Il servizio che acquista? Quindi un consumatore consapevole può veramente fare la differenza. Col voto di portafoglio, come per esempio abbiamo la politica, il voto che noi facciamo alle elezioni per creare dei governi, questo voto col portafoglio, con la pratica dell'acquisto e del consumo, può aiutare a cambiare il mondo, a rendere un mondo più attento all'ambiente, più attento ai problemi etici e sociali. Ci sembra importante, in particolare in questi anni, come sistema universitario italiano in particolare, quello di aiutare i ragazzi a orientarsi verso quelle che possono essere scelte, indirizzi, competenze. L'idea di fondo è che probabilmente non dobbiamo scegliere una singola università, ma scegliere un percorso, un indirizzo e quindi valorizzare quelle che sono le competenze e le passioni dei ragazzi. L'università questo lo raggiunge ad esempio con tutto il lavoro che da anni fa di orientamento in collaborazione con le scuole, attraverso attività di porta aperte, attraverso dei moduli formativi, attraverso attività che si fanno di collaborazione con gli insegnanti delle scuole. E questa collaborazione costante che la nostra università e l'università hanno da anni maturano in questo senso e portano i ragazzi a delle scelte più consapevoli e con maggiori conoscenze. L'università sta cercando di essere pronta sapendo che la sfida futura è una sfida e come tale quindi si trova preparati ma si trova anche con delle criticità, criticità che dobbiamo affrontare. La cosa credo che sia importante è quella di imparare anche a sapere... Java Travel 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 Buongiorno a tutti all'evento di presentazione del nostro paper sulla gestione sostenibile delle catene di fornitura. Vi ringrazio di essere presenti così numerosi a questo primo incontro. Volevo ringraziare in particolar modo anche i nostri speaker che sono con noi oggi, il presidente del Global Compact Network Italia Marco Frey, le testimonianze che ci verranno date dalle aziende italiane che hanno lavorato con noi su questo paper, quindi Maria Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer and Group Investor Relations di Prismia. Grazie di essere qua con noi. Costantino Chessa, Head of Procurement di Eni. Poi abbiamo Ida Schillaci, Head of CSR Office di S.Lunga. E Fabiana Marchini, Head of Sustainability di San Pellegrino, Nestlé. Grazie di essere qua con noi. Ringrazio anche da remoto Ole Hansen, Chief Global Operation of the United Nations Global Compact. Quindi proprio perché abbiamo uno speaker straniero, permettetemi di cambiare un attimo lingua per introdurre il nostro speaker. Quindy, I'm going to switch into English. Thank you again for being here today. Today we are very proud of officially launch the position paper Sustainable Supply Chain Management, Responsibility and Opportunity for Businesses. A document exploring why it is important for the private sector to manage in a sustainable way our supply chain. Supply chains are increasingly recognized as being a key factor of corporate sustainability. By improving our ESG performance, companies put their own interests at first, but also the interests of their stakeholders and the society at large. So working for sustainable supply chain creates a shared value for the society and also contributes to the Sustainable Development Goals and the United Nations 2030 Agenda. As I just said, this Italian paper is the result of a working group of the secretariat of the Italian network, as well as more than 30 companies working together. So I'm not going through into too many details with you because I think it's much more interesting listening to our companies here today. But I would like also to take the opportunity to thank all the other companies that work with us on the paper and underline that companies and suppliers need to work together in achieving sustainability objectives, adopting a win-win approach. And this connection could be facilitated by joining UN Global Compact, a space where big companies and small media enterprises are provided with skills and opportunities to scale up their sustainability pathways. In this regard, it's a pleasure for me and an honor to invite Mr. Ole Hansen, Chief of Corporate Operations at the United Nations Global Compact, to address the audience with these remarks. Please, Ole, over to you. Can you just say a word to have your image? Do we have Ole connected? You're on stage. Great. Thank you very much, Daniela. And thank you to the whole... Stay in the middle, please. And thank you to the Italian Network of the UN Global Compact for inviting me to join the opening of your event today. I really appreciate it. And I'm just very sad that I won't be able to join you in person. The position paper that you're launching today is indeed a very important one. And we very much support and appreciate that also from the global part of the UN Global Compact. For the United Nations Global Compact as a whole, supply chain sustainability is really a top priority. And this is also reflected in our global strategy that we're currently working under, in which supply chain sustainability is one of what we call the lead and shape sustainable development goals. So it's one of those sustainable development goals where we see that the UN Global Compact and its 16,000 business participants can really make a big difference and will really need to make a big difference. When we talk to many of our participants and also with the data that we have, we see that companies around the world consistently rank supply chain practices as the biggest challenge when it comes to improving sustainability performance. And that's quite obvious because of the scale and the complexity of many of the supply chains that businesses have. So for the UN Global Compact or from our side, it's clear that we encourage companies to make sustainability a top priority at the top of the organization. And really to make sure that chief executives sees the supply chain and communicates about the supply chains as an extension of their workforce and then really communicate expectations for best practices across the supply chain. So this of course then covers practices across screening of suppliers, auditing, but also very importantly, training and remediation. For the Global Compact, we really see supply chain sustainability as a cross-cutting issue. It really reflects on all of the four issue areas of the UN Global Compact. So human rights, labor, environment and anti-corruption. But in recent years, the focus of our supply chain work has really been around human rights, labor, and decent work. And we've been developing both guidance and tools to support companies in working with their suppliers. One example of this is the Decent Work Toolkit for Sustainable Procurement. And this enables companies and specifically their procurement professionals to work with their suppliers to develop really a common understanding of how to advance decent work through the purchasing decisions and to scale up efforts to improve lives around the world. Another big priority is a living wage. And we really encourage and try to support companies to provide and promote a living wage across not just their own organization, but also supply chains. When we look at information from the International Labor Organization, the ILO, we see that sadly more than 630 million workers worldwide, so this is almost 20% of everyone who is employed worldwide, they did not earn enough, despite being employed, to lift themselves and their families out of poverty. This is a statistic that's more or less than 3 years old, but they're still very much the same sad picture today. We in the UN Global Compact are this year launching a couple of new think labs, as we call them, that will shape thought leadership and best practices on some of these issues that relate to sustainability in the supply chain. One of them is a think lab on just transition, and this looks at the theme of supply chain in the context of how can companies really be vehicles for just an inclusive transition, the transition that we're necessarily having to go through. But how do we do that, and how do we take care of transitioning our supply chains through the lens of renewable energy adaptation and mitigation? We have also launched a think lab on that specific topic of living wage. And here we explore how companies can address that issue, not just because it's an investment in human capital that can bring a range of returns to the company itself, but also because it's part of really the core responsibility of the business to protect and respect human rights across the business, across the supply chain, as it's, for example, as it's, for example, outlined in the UN guiding principles on business and human rights. So, as I'm sure you all know, the role of business in ensuring human and labor rights and protecting the environment, avoid corruption. This is increasingly recognized also by European institutions and making its way into legislation across the continent. This includes a proposal for a directive that requires businesses to conduct human rights and sustainability due diligence across their suppliers. And this, hopefully, will help stimulate responsible behavior across all global value chains. So, very glad to see that that is included in the paper that is being launched today. And it's a priority for the UN Global Compact to support our participants around the world in making progress on this in very practical ways. So, just wanted to conclude by saying that really appreciate not just the launch of this paper, but also the broader work conducted by the Italian UN Global Compact Network on this topic this year for the very hard work of the companies that have been involved. And we look forward to being able to share also, more broadly, an English version of this guide to other companies. So, concluding here, thank you again very much for the invitation and have a great rest of the conference. Thank you. Thank you, Ole, thank you for being with us and for your endorsement you just gave to our network. We are all aware that only together, companies, Global Compact, civil society, academic, we can really boost our path towards sustainability. So, looking forward to meet you in Copenhagen. We have our regional meeting starting tomorrow morning. And thanks for taking the time. I know you're very, very busy. So, going back to Italian, lascerei la parola quindi al nostro Presidente Marco Frey per illustrare il paper di cui tanto vi abbiamo incuriosito e prego la regia di mettere le slide. Grazie Marco. Grazie mille. La voce è un po' giù ma cerco di parlare forte perché mi sono reso conto che chi ha la cuffia sente e chi non ha la cuffia, essendo in questi spazi aperti, fa più fatica a sentire. Grazie mille, molto sinteticamente, qual è il background? Noi abbiamo normalmente un processo attraverso il quale organizziamo due eventi rilevanti come Global Compact, tra tanti, che sono il CEO Meeting, quindi il momento in cui si incontrano gli amministratori delegati delle principali imprese appartenenti al network. Siamo ben oltre 500 in questo momento, quindi questo è il quadro che discutono di un paper preparato dalle loro strutture insieme a noi dei mesi precedenti. Quindi con una serie di incontri arriviamo a presentare un quadro da condividere in una discussione che dura una mattinata. Le conclusioni di quel paper sono scritte in base alla discussione che avviene in quel momento. Quindi la parte conclusiva è il frutto del contributo diretto degli amministratori delegati e dei presidenti. Il percorso attraverso il quale siamo arrivati a definire questo come il topic del CEO Meeting del 2021 è stato attraverso il passaggio con un altro evento molto importante per noi, che è l'SDG Meeting, tra due settimane saremo Torino, in cui discutiamo nel complesso con l'assemblea del Global Compact, quindi con numeri decisamente più ampi per due giorni di diversi topics e scegliamo, cioè sono i partecipanti che scelgono anche votando una serie di tematiche che sono emerse nel corso dei due giorni. Quindi è giunto il momento nel 2021 per dare rilevanza al tema delle catene di fornitura. È un tema importantissimo perché è il modo principale attraverso il quale si arriva alle piccole e medie imprese su queste tematiche. Le grandi imprese nel momento in cui si impegnano, poi vedremo come, in maniera consistente nel costruire regole, meccanismi di verifica, supporto nei confronti delle piccole e medie imprese, possono agire davvero come un volano rilevantissimo per la diffusione della sostenibilità e nello specifico per quanto ci interessa dei principi del Global Compact. Quindi questo è il motivo, come vedete 32 aziende hanno partecipato al gruppo di lavoro che poi ha portato alla discussione con un numero sostanzialmente equivalente di amministratori delegati, perché poi hanno partecipato tutti. La struttura del documento la vedete qua, quindi in primis c'è l'inquadramento del perché la sostenibilità della catena di fornitura è un tema molto rilevante, quali sono le dinamiche, anche cosa sta accadendo, OLE ha dato un quadro a livello internazionale e anche europeo. Come sapete l'Europa in questo momento è probabilmente l'ambito nel mondo che più sta spingendo competitivamente, strategicamente, sul tema della sostenibilità. La seconda parte è relativa a un'attenzione specifica al tema climate change e in questo caso, proseguendo un ragionamento che avevamo fatto l'anno prima, l'anno prima il CEO meeting era stato sugli impegni, le roadmap per la decarbonizzazione da parte delle imprese e il tema più critico che era emerso era il cosiddetto scopo 3, cioè in che modo riuscire ad estendere a quel più del 90% degli impatti che concernono i diversi settori che sono riconducibili per l'appunto alle catene di forniture. Quindi su questo abbiamo ripreso un filo che era già stato tirato l'anno precedente. C'è poi la parte sulla dimensione sociale, Ole ha dato grande evidenza a questo tema, sappiamo che anche a livello internazionale in questi ultimi due anni, facciamo un esempio, i bond orientati alla dimensione sociale si sono ridotti contrariamente a tutti gli altri trend perché effettivamente è una tematica che si fa più fatica a interiorizzare pienamente all'interno delle imprese e quindi per noi è meritato un focus specifico, capire quali sono gli strumenti, le modalità poi torneremo su questi aspetti legati al lavoro dignitoso ma Ole lo ha già sottolineato in modo molto chiaro. Quarta parte è la valutazione dell'esternità lungo il ciclo di vita e di prodotti e servizi. Quindi tutto ciò che partendo da un'analisi più ambientale da questo punto di vista, degli impatti che si generano e della capacità da parte delle imprese di impostare una vera e propria analisi del ciclo di vita, quali sono le modalità attraverso le quali si riesce a estendere veramente, strategicamente, questo tipo di approccio strategico nei confronti di tutti i propri fornitori. Quinto la parte sulle best practices, qui nel documento ci sono poi le best practices delle imprese che hanno direttamente partecipato, ve ne presenteremo alcune oggi per poter essere sufficientemente sintetici, anche questa è una caratteristica dei nostri position paper, cioè raccontare cosa si sta facendo per dare degli esempi che siano imitabili. C'è poi una parte più specifica dedicata di piattaforme dentro queste best practices, la logica delle piattaforme per la gestione dei fornitori, da quelle presenti sul mercato a quelle corporate che si stanno sviluppando in maniera significativa per personalizzare in qualche modo l'approccio a quelle corporate che si pongono in partnership con tutta un'altra serie di soggetti, cioè ci sono diverse fattispecie e abbiamo pensato che meritassero un'attenzione dedicata. E poi le conclusioni, le conclusioni che come vi abbiamo detto sono un po' il succo di quello che abbiamo concordato con i livelli più alti nelle imprese, perché poi lo scopo nostro è sempre quello di arrivare partendo dai supply chain manager agli amministratori delegati per far sì che questo divenga davvero un commitment e che sia una componente delle scelte strategiche complessive. Alla fine trovate poi il dettaglio delle esperienze. Molto rapidamente, perché abbiamo poco tempo, questi sono i concetti chiave che di fatto abbiamo già visto, sottolineando che esiste una logica, un win-win, c'è una fortissima consapevolezza da parte delle imprese che oggi affrontare il tema della catena di fornitura vuol dire creare cultura in modo più esteso rispetto a queste sfide. E così come all'interno senza la cultura non si può avanzare nel miglioramento, così vale anche nel rapporto con le catene di fornitura. E quindi la consapevolezza è che c'è bisogno di agire con strumenti che consentano anche gradualmente, per esempio alle piccolissime imprese, non puoi chiedere immediatamente di adeguarsi alle due diligence secondo i parametri europei. Devi riuscire a creare le condizioni per cui questa cultura si instaura progressivamente e a quel punto diventano davvero coprotagonisti di questi processi. Sul tema delle missioni indirette di Scopo 3, anche qua, la tematica è molto complessa perché evidentemente richiede la capacità a questo punto di creare cultura ma anche trasparenza. C'è un problema di misurabilità degli impatti. Senza misurare non si sa, non si conosce e non si sa come agire. E quindi questa tematica è emersa in maniera decisa da questo punto di vista e le sforzi che sta facendo anche la Commissione europea con la tassonomia e con i diversi contributi in quest'ottica sono visti positivamente nel momento in cui però sono capaci di comprendere qual è il target, il livello a cui ci si sta rapportando. Pensate poi questo come si collega alle azioni che gli istituti finanziari sono chiamati a fare proprio per il collegamento sulle politiche del clima alle logiche di carattere finanziario. sulla gestione dei impatti sulla dimensione sociale è già stata citata la due diligence come elemento molto rilevante nel contesto nostro in quanto Europa al proposito ma anche è stato sottolineato la necessità di superare la logica della compliance in quest'ottica. Quindi mettersi nella prospettiva che dicevamo precedentemente di una cultura strategica della sostenibilità. dove il riferimento non è per dire sei conforme o non sei conforme anche nei processi di accreditamento e selezione dei fornitori ma se hai messo in questa posizione oggi sappilo puoi migliorare per arrivare a un gradino superiore che evidentemente ti concede un accesso privilegiato non soltanto a questa azienda ma anche le aziende partner con cui si costruiscono schemi di questo genere. Noi oltre dieci anni fa avevamo costruito un software, un proprio sistema di valutazione delle catene di fornitura dal punto di vista della sostenibilità. È stato un ottimo boost ma è un boost perché consentiva alle imprese anche piccole di autovalutarsi e quindi di capire come migliorare. Vado velocemente con qualche flash per il tempo. Ciclo di vita. Allora evidentemente qua il tema della rivoluzione verde, della transizione ecologica è fortemente presente. C'è la grande spinta che arriva anche, chiamiamolo Next Generation Europe perché il PNRR soprattutto per uno con la remoscia rimane in gola e in quest'ottica evidentemente c'è la grandissima sfida di valutazione dell'esternalità. Cioè stiamo davvero entrando in una fase in cui questa componente non misurata, scaricata sulla società progressivamente viene internalizzata. Pensate a quell'altra sigla quasi impronunciabile che è DNSH relativamente ai progetti per l'appunto di Next Generation Europe che dovranno valutare l'esternalità ambientale e non aumentarle. Qui ci sono grandi aspetti legati alla circolarità. Poi anticipo una cosa che è stata detta nelle conclusioni dall'amministratore delegato di un'importante impresa. Guardate, noi sul cambiamento climatico tutto sommato ci siamo organizzati. Siamo in grado di definire un sistema con cui operiamo insieme ai nostri partner. Sulla circolarità facciamo ancora fatica. Perché? Perché impatta fortemente sui processi innovativi. E quindi agire sulla catena di fornitura da questo punto di vista vuol dire mettere in moto quei processi di innovazione che conosciamo molto bene nel momento in cui si fa supply chain management in modo evoluto. Qui vedete l'elenco delle best practice per loghi. Non mi soffermo. Tanto poi trovate tutto. Strumenti e piattaforme per l'ingaggio dei fornitori. Anche qua ce ne sono diverse, come potete vedere. C'è anche la nostra Tempi storica che sta proseguendo con l'applicazione nel settore cartario. Quindi è diventata una delle tante piattaforme. E tra l'altro abbiamo proprio lo scopo di mettere a sistema il più possibile queste diverse esperienze attraverso il ruolo, diciamo, terzo del Global Compact. Conclusioni. Uso gli ultimi cinque minuti per queste per vedere con voi cosa è emerso dalla discussione con gli amministratori delegati. Forse la parte più consistente del nostro percorso, anche se poi ridotto a due ore e alla relativa sintesi. Primo, il percorso verso la sostenibilità è necessario e irreversibile. Utilissimo richiamarlo perché ormai dal 2015 noi facciamo questi incontri con gli amministratori delegati e devo dirvi che il livello sale ogni anno. E si entra nel merito di aspetti sempre più concreti. Nel processo di engagement dei fornitori coinvolgiamo anche, qui vengono chiamate le interfacce, la sostanza è le altre funzioni aziendali, non soltanto il procurement. In tutte queste sfide, ogni volta che noi trattiamo un tema, trattiamo il tema del human right, HR deve essere coinvolto perché altrimenti si resta nell'area sostenibilità e parcheggiato là. Però non basta. Nel caso del Sustainable Subway Chain, tutte le funzioni, le operazioni, il marketing, la ricerca e sviluppo, le risorse umane per la parte sociale devono essere coinvolte e la finanza perché sta diventando sempre più rilevante in quest'ottica. Terzo, riconoscere l'importanza del tema della misurazione. Su tutti gli aspetti, l'abbiamo sottolineato per uno di quelli che abbiamo approfondito, ma vale per tutti, bisogna essere capaci di mappare sistematicamente la catena di fornitura. Quindi costruire in primis la fotografia dell'esistente con tutti gli indicatori, i parametri che caratterizzano la sostenibilità. Secondo, individuare su questa base gli obiettivi di miglioramento. Ma insieme e senza forzare in quel processo di crescita culturale che dicevamo precedentemente. Questo permette anche di facilitare poi la comparabilità. Quindi costruire quei sistemi di benchmarking per realtà similari dimensionalmente o settorialmente che poi porta anche le piccole innovazioni a poter essere diffuse in una logica di network. Che poi è il nostro compito principale. Quarto, considerare la dimensione delle performance, più che in una logica prescrittiva, devi raggiungere quella sticella, nella prospettiva dell'accompagnare le roadmap, i percorsi di sostenibilità. Oggi noi abbiamo roadmap da parte delle grandi imprese, le abbiamo sulla decarbonizzazione, le abbiamo sulla sostenibilità in generale. Abbiamo queste evoluzioni dei piani strategici che passano dai tre anni ai cinque anni ai dieci. Come si fa oggi a fare un piano a dieci anni quando le cose cambiano ogni giorno? Sembrerebbe una contraddizione. Eppure la sostenibilità è così. Cioè devi ragionare al 2030 e poi costruirti le dinamiche successive. Sottolineare l'importanza delle dimensioni degli impatti sociali. Sull'ambiente c'è più consapevolezza, c'è più collegamento alla performance competitiva, al risultato economico, pensate all'energia. Da questo punto di vista la dimensione sociale è un po' rimasta indietro. Nella discussione è stato fantastico parlare di che cosa si poteva fare rispetto al conflitto bellico in Ucraina. Abbiamo ascoltato dei problemi e delle azioni davvero interessanti, usiamo questo termine, da parte delle imprese coinvolte. Sono sfide che allargano giustamente la dimensione. Non dimentichiamoci che la sostenibilità è tutta insieme. In relazione alla decarbonizzazione è considerare la dimensione della logistica con attenzione anche al downstream. Perché quando si parla di scope 3 si pensa sempre alla parte a monte. E invece la parte a valle è consistente. In alcuni casi è determinante. E poi in ultimo allargare lo sguardo alle comunità locali su cui le scelte di acquisto hanno impatto. Quindi considerare l'impatto, è un tema che al Salone tra l'altro quest'anno viene lanciato in modo significativo anche con un premio dedicato, come il modo per poi ricondurre quel tema che dicevamo della misurazione a una dimensione ancora più integrata. Questi sono gli esiti. Devo dire che una delle cose che mi ha fatto più piacere, che ci ha fatto più piacere durante l'evento, il CEO Meeting, e anche successivamente è stata la dichiarazione da parte di diverse imprese e guardate che i vostri position paper servono, nel senso che noi li usiamo internamente per i processi di creazione della cultura su queste tematiche. Quindi lo troverete abbastanza asciutto come deve essere un documento pensato per un uso aziendale, ma abbiamo avuto evidenza di un utilizzo decisamente diffuso. Il paper è scaricabile sul nostro sito web. Restituisco la parola a Daniela. Grazie. Grazie al nostro Presidente, sempre chiarissimo, efficace ed impatto. Passerei quindi adesso, dopo che abbiamo visto quali sono i tre pilastri, quindi appunto decarbonizzazione, scope free, diritti umani, esternalità negative e soluzioni circolari, a dei casi concreti, perché le aziende poi concretamente devono portare del valore su queste tematiche. E passerei quindi la parola prima di tutto a Nestlé, quindi alla dottoressa Fabiana Marchini, che parla proprio del primo focus tematico. E quindi chiedevo se potesse condividere con noi come la dimensione della logistica sia importante per perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'azienda, quindi nuovamente andare a valle e da dove arriva la scelta che ha fatto Nestlé San Pellegrino al biogas e quali risultati ha portato finora. Grazie, buongiorno a tutti intanto. La logistica per noi è una fase cruciale nel nostro percorso di decarbonizzazione. San Pellegrino come gruppo Nestlé si è prefissato di raggiungere Net Zero Emission entro il 2050 e ha aderito alla Business Ambition for 1.5 Degree delle Nazioni Unite. Per fare questo ovviamente è cruciale costruire un percorso di decarbonizzazione che lavora su tutte le fasi della nostra filiera, quindi andando ad agire sulla logistica, sulla parte di manifattura e sul packaging. Ovviamente la logistica per un'azienda come la nostra, che porta i nostri gioielli iconici come Acquapanna e Acqua San Pellegrino in giro per il mondo, porta il Made in Italy in giro per il mondo, ma anche Levissima, che è il brand più noto a livello nazionale, raggiunge 9 milioni di tavole di italiani. Lavorare sulla logistica è cruciale, anche perché ci siamo misurati con un Life Cycle Assessment e come prevedibile la logistica rappresenta il 40% del nostro impatto ambientale. E' quindi imprescindibile fare un lavoro insieme ai nostri fornitori per poter ridurre il nostro impatto ambientale legato ai trasporti. Per questo motivo abbiamo intrapreso già da diversi anni un percorso volto a incrementare costantemente l'utilizzo di trasporto intermodale, dando la preferenza a mezzi di trasporto più green, quindi cercando il più possibile di viaggiare su treno, su nave o anche su mezzi, su gomma, ma a ridotto impatto ambientale. Considerate che già il 45% delle nostre bottiglie viaggia su mezzi green, con punte del 60% quando per esempio parliamo di Levissima e che siamo il primo cliente per Mercitalia. Quindi per noi lavorare per rendere sempre più efficiente il nostro trasporto, ridurne l'impatto ambientale è cruciale, ma questo non è possibile se non lavoriamo con i nostri fornitori logistici, anche perché più del 90% delle nostre emissioni è in scopo 3. Quindi senza i nostri fornitori questo non può accadere. Abbiamo iniziato nel 2016 a lavorare con un nostro fornitore logistico, Maganetti, in Valtellina, per trasformare la sua flotta in una flotta LNG, che è un combustibile sì fossile, ma a minore impatto ambientale, in grado di azzerare le emissioni di particolato. E con lui abbiamo lavorato appunto a trasformare la flotta quando ancora non esisteva l'infrastruttura. Quindi con un approccio, se vogliamo, anche pionieristico. Beh, questo approccio è stato cruciale poi per le evoluzioni future, per trasformare la sua flotta LNG in una flotta a bio LNG. Questo, come dicevo, è cruciale al ruolo dei nostri fornitori. E grazie a quanto abbiamo fatto già in passato, quindi con Maganetti, il 30% del trasporto su gomma di Levissima è su LNG, ma anche il navettaggio dallo stabilimento di San Pellegrino Terme al deposito centrale di Madone è 100% LNG. Però questo non basta. E nel nostro percorso verso la decarbonizzazione serve fare di più. Per questo motivo, nel 2021, sempre con i nostri fornitori, abbiamo iniziato a trasformare il trasporto LNG in un trasporto a bio LNG, un combustibile non fossile in grado di azzerare al 100% le emissioni legate al trasporto se si considera l'intero ciclo produttivo del gas. Questo è stato cruciale, è stato realizzato attraverso la collaborazione del nostro fornitore logistico con un'azienda, con una cooperativa piemontese, Speranza, che si è impegnata a darci la fornitura di 15.000 tonnellate di biogas che deriva da residui agricoli e zootecnici. Con queste 15.000 tonnellate abbiamo coperto il fabbisogno annuale di circa 70 track. Questo ci ha permesso di ridurre di 6.000 tonnellate le nostre emissioni. Per fare un esempio, la quota di riduzione di Levissima di queste 6.000 tonnellate è stata di 3.000 tonnellate che ha permesso nel 2021 di ridurre le emissioni collegate alla logistica di Levissima dell'11%. Quindi un risultato sicuramente significativo. Ecco, è questo il percorso che dobbiamo fare. Lavorare con i nostri fornitori per poter ridurre costantemente il nostro impatto ambientale. E provare con loro a sperimentare, trovare e avviare progetti innovativi, nuovi, essere anche precursori. Ed è il motivo per cui abbiamo lavorato quest'anno e a gennaio partiremo con un nuovo progetto pilota che è l'utilizzo di un track elettrico dallo stabilimento di Cepina, quindi in Valtellina, dove imbottigliamo acqua Levissima, con trasporto elettrico fino al deposito di Madone in provincia di Bergamo. Grazie. Grazie per questa testimonianza a Fabiano Marchini. Bello il messaggio che ci ha dato, no? Come sia importante il knowledge sharing con i nostri fornitori, come insieme si debba perseguire un percorso virtuoso verso il minore impatto ambientale. Tocchiamo adesso un tema delicatissimo, che è quello dei diritti mani. Già il nostro Presidente diceva che è il tema sulle quali le aziende fanno un pochino, forse, più fatica a misurarsi. In particolar modo volevo coinvolgere Cristina Bifulco di Prismian, grazie per essere qua con noi, che su questo tema ha una bella sfida rispetto ai conflict minerals e quindi a quei minerali che sono reperibili, per esempio in Congo, in aree di conflitto. E allora io mi chiedo, per un'azienda come Prismian, quali sono state le accortezze rispetto agli approvvigionamenti di questi tipi di materiali per mitigare i rischi correlati proprio ai diritti umani e come avete coinvolto i fornitori? Grazie mille, grazie mille. Buongiorno a tutti. Devo dire che come Prismian noi condividiamo appieno lo spirito che prima il Presidente e poi Fabiana condividiva con noi, che è quello che il ruolo delle aziende deve essere concreto, il senso di responsabilità e non soltanto di compliance. Quindi Prismian noi abbiamo il privilegio di essere, per chi non ci conoscesse, noi siamo un'azienda leader mondiale nella produzione di cavi elettrici e abbiamo un ruolo proattivo nel business della transizione energetica perché colleghiamo le rinnovabili, sviluppiamo cavi per le rinnovabili, abbiamo 108 impianti in giro per il mondo, siamo presenti in 50 paesi, quindi siamo un gruppo industriale che fa un largo uso di materie prime, di metalli, e chiaramente il senso di responsabilità che abbiamo è accertare che la nostra supply chain sia totalmente free dai conflicting minerals, che sono quattro, per chi non lo sapesse, sono lo stagno, l'oro, il tungsteno, il tantalio. E oltre, quello che noi facciamo è una mappatura dettagliata della nostra catena di fornitura. Noi partiamo dal design del prodotto per capire quali materiali anche indirettamente utilizzano questi minerali. Per esempio abbiamo mappato che utilizziamo delle quantità per quanto limitate di stagno, quindi quello che noi facciamo è in linea con gli standard che sono stati emanati dalla Responsible Minerals Initiative, noi inviamo ai nostri fornitori un questionario che è quello che risponde alle linee guide della Reporting Minerals Initiative e chiaramente cosa facciamo? Innanzitutto riceviamo tutte le risposte e le analizziamo per capire qual è lo stato dei nostri fornitori. Dopodiché, in funzione delle risposte, mappiamo i nostri fornitori. Per esempio, stando a questo template, le fonderie vengono distinte tra fonderie che sono conformant, che quindi sono perfettamente allineate ai requisiti, ai massimi standard etici, al massimo rispetto delle condizioni del diritto del lavoro. e nel nostro caso, il 95% delle fonderie alle quali si rivolgono i nostri fornitori sono totalmente conformant. C'è un 5% che è in uno stato active, cioè vuol dire che è in corso un'azione di due diligence e sono in corso identificazione delle azioni di mitigazione del rischio. Quello che chiaramente fa Prismian è quello di continuare a lavorare con i fornitori che si approvvigionano a propria volta dalle fonderie che sono conformant e mette in una posizione di stand by i fornitori che sono in una fase di implementazione di queste misure. Perché crediamo che la nostra responsabilità sia quella di sensibilizzare dei nostri fornitori. E' un po' questo. Possiamo sfruttare il vantaggio di essere nel nostro settore un'azienda che incide a un buon potere di acquisto e ci piace, come dire, pensare che abbiamo un impatto concreto sulle catene di fornitura. Perché non è soltanto compliance, è proprio un senso di responsabilità rispetto anche alle comunità dove noi operiamo. Grazie, grazie. Questo concetto ritorna andare al di là della compliance e integrare nelle proprie strategie un concetto di responsabilità di impresa. Quindi sicuramente con una sfida molto molto delicata che però voi state portando avanti con grande successo. Addirittura partendo dal design di prodotto. Allora io qua mi aggancio per una bellissima testimonianza di S.Lunga. realtà leader nel nostro paese quindi che ha impatti sia sull'ambiente ma anche sullo spreco alimentare. Ricordiamo che in Italia abbiamo 4 milioni di tonnellate di spreco alimentare 67 kg pro capite all'anno. E c'è questo progetto che io chiederei alla dottoressa Ida Schillaci che è con noi per la prima volta come testimonianza perché sono aderenti dall'anno scorso per cui welcome. questo progetto che mi incuriosisce moltissimo di valorizzazione degli scarti ittici che si chiama correggimi se sbaglio Hydrolyzed Protein Project perfetto e in cosa consiste questo progetto e come avete coinvolto i fornitori? Allora innanzitutto devo dire che S.Lunga oltre a essere supermercato e anche produttore è una food company questa è una cosa che non tutti sanno noi abbiamo degli stabilimenti di produzione centralizzati che nel tempo diciamo che quando è nata la gastronomia per esempio era stata sviluppata nei singoli negozi poi per ottimizzare il processo per ridurre le materie prime gli scarti delle materie prime e per lavorare meglio quelli che erano i rifiuti abbiamo deciso di centralizzare nel tempo e proprio per questo nasce questa attività con il nostro fornitore da uno scambio comune di idee con il gruppo di USA Lip Italia questo gruppo è un gruppo leader di mercato dagli anni 60 ritira quelli che sono gli scarti di lavorazione sia diciamo animali in generale quindi carne e pesce per la produzione di fertilizzanti piuttosto che oli per la produzione di oli combustibili o comunque energia termica o elettrica l'idea è nata proprio perché nel centro di lavorazione pesce essendo centralizzato a Biandrate era possibile garantire una numerevoli indicatori di qualità del nostro scarto per produrre alimenti di altissima qualità per il pet food e per la zootecnia quindi diciamo che i nostri scarti che possono essere separabili perché le nostre lavorazioni sono lavorazioni poi singole noi lavoriamo singolarmente il salmone singolarmente il pesce spada piuttosto che altre referenze vengono raccolte separatamente trasportate a 4 gradi centigradi fino allo stabilimento di Lipitalia qui viene triturato in modo tale da garantire poi un processo diciamo di pari livello su tutte le particelle del insomma del pesce e vengono lavorate le teste la pelle del pesce e anche le lische quindi non si butta via niente tutto viene recuperato viene recuperata anche l'acqua c'è questo trattamento molto diciamo a basso impatto energetico perché è un'idrolisi per via enzimatica sottovuoto quindi anche in questo caso basse temperature e con l'inserimento di pochissimi additivi chimici proprio perché è sottovuoto viene poi separata la parte dell'olio per gli omega 3 dalla parte dell'idrolisi e poi successivamente viene recuperata anche l'acqua quindi veramente non viene buttato nulla e si crea un prodotto di altissima qualità per l'alimentazione appunto sia del pet food che della zootecnia diciamo che con questa attività partita l'anno scorso l'idea è di recuperare 2700 tonnellate di scarti che non sarebbero destinati a uso animale e che sarebbero stati destinati alla produzione di energia invece in questo modo li abbiamo valorizzati dando un uso migliore diciamo che siamo molto molto soddisfatti di questo progetto siamo gli unici fornitori di Lipitalia perché siamo gli unici a garantire questo altissimo standard qualitativo e anche di tracciabilità perché è tutto sotto HCCP e quindi per noi è stata una grande attività un grande progetto grazie grazie a Ideaschillaci molto interessante molto innovativo e conferma come questa logica di collaborazione poi possa portare veramente impatto anche con recuperi importanti rispetto agli sprechi quindi passiamo da una neonata azienda a un'azienda storica del Global Compact che è Eni buongiorno a Costantino Chessa buongiorno a tutti e last but not least noi siamo donne inclusive per cui volentieri accogliamo anche la testimonianza oggi faccio la quota azzurra esatto e azienda fortemente che non ha bisogno di presentazione Eni è fortemente impegnata nella transizione energetica rispetto alla vostra esperienza di coinvolgimento dei fornitori nuovamente sia con la condivisione di competenze ma anche con risorse economiche volevamo ascoltare un po' la storia del vostro programma sui basket bond energia sostenibile e anche l'esperienza che diceva prima il nostro presidente sugli strumenti quindi Eni si è fatta capofila e lead nel lancio di una piattaforma Open S su questa piattaforma a che punto siamo quali sono gli obiettivi? Allora buongiorno a tutti grazie per l'invito allora vediamo un attimo di inquadrare i due temi che sono due temi distinti e che ovviamente si parlano il basket bond energia sostenibile nasce dalla necessità di coinvolgere i nostri fornitori all'interno del piano di sustainable supply chain che legato alla nostra strategia abbiamo una strategia di transazione energetica eco inclusive e sostenibile con un obiettivo di decarbonizzazione al 2050 e quindi di completa neutralità carbonica a livello di scopo 1, 2, 3 parliamo di scopo 3 e quindi dobbiamo avere a fianco all'interno di questo processo di trasformazione tutti i nostri fornitori e nell'ambito della rivisitazione che abbiamo fatto dei nostri processi di approvvigionamento per valorizzare l'esperienza dei nostri fornitori sia in fase di qualifica e di accreditamento e quindi misurare il contenuto di sostenibilità delle aziende il loro profilo ISG ma anche il contenuto nel momento in cui presentano un'offerta su un bene un lavoro o servizio in una fase di gara ci siamo resi conto che non bastava chiedere un impegno in qualità di committente nei confronti delle aziende ma era necessario fornirli degli strumenti concreti fornirli degli strumenti concreti perché il miglioramento del proprio profilo ISG non è un obiettivo che si possa raggiungere senza degli investimenti nei propri processi produttivi nei propri cicli produttivi prima facevamo il riferimento ai modelli di circolarità se non ridisegno il mio ciclo produttivo non posso ottenere che vuol dire spesso investire in impianti fare degli investimenti che siano degli investimenti veri e propri in impianti in attrezzature e non ultimo in competenze allora per far questo abbiamo deciso insieme ad Elite società di borsa italiane e del Limiti Bank di mettere a disposizione dei nostri fornitori di tutti i fornitori che operano nel settore energia quindi non soltanto aziende che lavorino direttamente con Eni ma aziende che lavorano nel comparto e nel settore d'energia uno strumento finanziario che consente soprattutto alle piccole e medie imprese di avere accesso ad uno strumento di finanza innovativa che è il mini bond quindi la possibilità di poter emettere dei prestiti obbligazionari di solito le piccole e medie imprese per complessità e costo di queste operazioni non possono avere accesso difficilmente hanno accesso al mercato obbligazionario e quindi hanno la possibilità di emettere dei mini bond con il vincolo di destinare i fondi raccolti ad iniziative di sostenibilità questo per noi vuole essere un po' uno strumento che rendiamo disponibile ai fornitori lo rendiamo disponibile con due partner come i limiti che svolge il ruolo di arranger e l'it che supporta le piccole e medie imprese nello sviluppo in maniera tale da avere sempre più nel tempo delle aziende che siano state in grado di far diventare la sostenibilità un elemento del loro vantaggio competitivo e del modello di business dell'azienda quando parliamo invece della piattaforma openness in qualche modo abbiamo deciso l'anno scorso di ripercorrere un po' quelle che erano le orme prima il professor Frey parlava di piattaforme che ci sono state che l'esperienza come quella di Tempi dove abbiamo cercato a fronte di un'esigenza che è quella di raccogliere dati sulla sostenibilità delle aziende sul loro profilo ISG che è un po' un'esigenza di tutti un'esigenza dell'azienda industriale un'esigenza delle banche che hanno la necessità di raccogliere queste informazioni per misurare il merito creditizio delle aziende e abbiamo deciso di farlo non da soli come Eni ma con una partnership il più possibile allargata tutta una serie di aziende che avevano la nostra stessa esigenza è che da un anno dal 2021 quando abbiamo lanciato questa piattaforma sono diventate hanno superato la decina parlo di aziende come Iveco come Team come WeBuild come Motostrade per l'Italia Accenture insomma tanti partner che hanno condiviso questo obiettivo e che ritengo che hanno condiviso l'obiettivo di mettere a disposizione gratuitamente alla filiera una piattaforma che consente di misurare le performance di sostenibilità e farlo attraverso delle metriche il tema delle metriche poi credo che nei tre giorni del salone sarà toccato in più occasioni misurare la sostenibilità dell'impresa e renderla disponibile a quelle che sono banche a quelle che sono aziende industriali i clienti per poter consentire in maniera automatica senza un onere burocratico per le imprese in particolar modo per le piccole e medie imprese quello che è il proprio profilo ESG questa è una piattaforma che in poco più di un anno oggi conta più di 7600 imprese quindi diciamo che c'è stata una buona risposta che significa che probabilmente questa è un'esigenza molto sentita da parte del contesto industriale da parte delle filiere e ci auspichiamo che questa alleanza perché proprio di alleanza di sistema vogliamo caratterizzarla sempre più come alleanza di sistema speriamo che si allarga il numero maggiore di imprese proprio per agevolare il più possibile le aziende nel ridurre l'impatto della misurazione della sostenibilità e concentrarle più sul come migliorare il proprio profilo e non come misurare la propria sostenibilità grazie grazie al dottor Chessa ultimo relatore del nostro panel interessante sempre il ritorno al tema delle metriche dell'impatto della misurazione della performance che sicuramente è la sfida più grande per tutte le imprese io lascio la parola al nostro presidente per la chiusura e vi ringrazio vi ricordo il nostro paper è scaricabile dal sito e per qualsiasi informazione vogliate su Global Compact potete nuovamente contattare noi io guardare il nostro sito grazie grazie mille fantastici coi tempi nel senso che ho sei minuti per chiudere mi sembra tre sottolineature si usa sempre il numero tre nelle fasi conclusive allora la prima mi pare che sia stato chiaro a tutti anche e soprattutto con la presentazione delle esperienze che il percorso per la sostenibilità è un percorso integrato in cui entrano in gioco delle logiche di engagement di tutti i diversi attori le grandi imprese hanno una responsabilità forte da questo punto di vista e però la stanno concretamente applicando questo vuol dire che da un lato devono lavorare insieme le azioni collettive e soprattutto Costantino alla fine ha chiarito come nel fare una cosa per loro la stanno facendo insieme agli altri seguendo la storia di una nostra azione collettiva lo fanno senza percezione che la strada finisce a un certo punto ma bisogna continuamente alzare la sticella e creare cultura come dicevamo la fanno con una particolare attenzione al sistema nel suo complesso e quindi se da un lato noi dicevamo c'è la catena di fornitura classica quella che ci porta ad avere certi tipi di prodotti poi bisogna anche considerare tutta la parte a valle come è stato messo in evidenza ma è questo ed è entro un percorso strategico complessivo la roadmap 1.5 quindi con commitment che sono anche lo sappiamo molto impegnativi e perfettamente allineati con la logica del Global Compact e lo fanno anche cercando di trovare delle soluzioni net zero che è questa parola assolutamente sfidante impossibile raggiungersi sembrerebbe ma che in realtà è volta a dare una spinta consistente in quest'ottica quindi occorre procedere in questa prospettiva seconda cosa che voglio sottolineare la seconda cosa è che nel muoversi in questa direzione bisogna anche guardare a certe dinamiche un cambiamento importante che c'è stato negli ultimi due o tre anni nel nostro paese è stata la logica con cui la finanza è passata dal considerare i progetti di sostenibilità come secondari dal punto di vista della gestione della profittabilità o se vogliamo del rischio d'impresa a una logica invece in cui sono diventati primari nella scala delle priorità e nel farciò bisogna essere capaci di essere innovativi anche negli strumenti io ho partecipato al lancio del primo basket bond italiano insieme a Costantino e effettivamente Borsa Italiana Elite in particolare con questo programma che guarda alle imprese davvero medie del nostro paese e quindi se vogliamo a quella componente che forse strutturalmente ha più bisogno di crescere in chiave internazionale per creare anche questo secondo livello oltre le grandi imprese pensando all'attivazione delle catene di forniture in basso creare infrastrutturare le capacità la competitività anche su scala internazionale di insegno della sostenibilità di questi soggetti la terza cosa che voglio sottolineare voi avete visto cioè volutamente vi abbiamo fatto sentire la voce di Ole che dà l'idea di qual è il disegno complessivo del Global Compact dentro il quale poi i nostri network nazionali si inseriscono con le specificità che ogni paese ha la questione cruciale da questo punto di vista e il termine connessioni sostenibili probabilmente si presta molto bene a rappresentarla è quello di sapere ragionare applicando le due prime cose che abbiamo detto innovazione e integrazione nella crescita della cultura della sostenibilità e quindi usando tutti gli strumenti possibili tutto ciò che noi organizziamo ha questo scopo per mettere tutti voi nelle condizioni di comprendere misurare e applicare concretamente diciamo portare a terra non piace tantissimo questo concetto però bisogna farlo quelle che sono le azioni di sostenibilità quindi ci diamo appuntamento alla prossima occasione con molti di voi ci vedremo nei tanti eventi che noi organizziamo durante l'anno con molti di voi ci vedremo a Torino dove quest'anno abbiamo il nostro SDG Meeting e altrimenti al prossimo salone grazie grazie a tutti Grazie a tutti